Stasera ci sarà di nuovo l'ingresso di Alex Belli, che avrà un duro confronto con Soleil e Delia che lo ha lasciato dopo aver visto che Alex ha inviato un aereo a Soleil. Manila è giù di morale a pianto e si sente sola perché è accusata da Soleil di essersi avvicinata troppo a Delia e per questo è stata allontanata come amica. Per questo stasera entrerà suo marito Lorenzo Amoruso a confortarla. Ma ci saranno altri colpi di scena e ne vedremo di tutti i colori a sicura Alfonso Signorini. Canale YouTube Fabio Pecce